Ho 75 anni, sono un ingegnere elettronico, all'età di 68 anni mi sono reso conto di essere vecchio, i capelli diventavano sempre più grigi, perdevo sempre più capelli, l'anno scorso ho 74 anni, mi sembrava di perdere molta energia proprio, molta forza, non riuscivo neanche più a sollevare bene le bottiglie d'acqua al supermercato, un giorno mi sono fatto un piccolo strappo muscolare e ci ho messo due giorni a riprendermi. Ho problemi di artrite e li ho causati io stesso, devo dire la verità, perché quando avevo una quarantina d'anni volevo diventare come Arnold Schwarzenegger e quindi iniziai a mangiare come lui mangiava, mangiavo un sacco di proteine e facevo un sacco di altre cose insomma particolari nella dieta. Diciamo la dieta ci sarebbe anche stata se avessi fatto l'esercizio fisico necessario per accompagnare una dieta del genere, ma non ero capace a star dietro al regime di esercizio fisico. E quindi sviluppai dei problemi di artrite abbastanza severi, però cambiai la mia dieta abbassando le proteine e altri fattori e il problema più o meno scomparve. Che cerotti usi adesso e da quando? Ho iniziato il 23 gennaio del 2023, dal terzo giorno in avanti ho visto un grande miglioramento nell'energia. Non ero così sonolento durante la giornata, tipo ad esempio andavo in macchina ed ero molto stanco. Dalla terza settimana in avanti dormivo meglio e il sonno era più profondo, avevo più chiarezza mentale, ero più focalizzato e il gonfiore nella caviglia destra che ho da circa 30 anni, perché mi ero slogato la caviglia e mi ero rotto qualche tendine, quel gonfiore, non so, un giorno mi svegliai e era completamente sparito. E' veramente fantastico. I cerotti funzionano bene, aiutano il mio corpo a migliorare. Io uso un bastone per camminare, però nel terzo mese appunto notai un cambiamento nella schiena. Vi raccontavo prima che avevo questo problema a sollevare le bottiglie d'acqua, no? Un giorno mi ritrovai a mettere degli oggetti pesanti nel baule dell'auto e mi senti bene. Dissi, ah, wow. E quindi, dopodiché, ripresi ad andare in palestra recentemente, ho ripreso recentemente. Sollevamento pesi e tutto. Decisi di usare i cerotti perché ero stufo di camminare col bastone, volevo curare la mia anca. Ero abbastanza frustrato, insomma, che dopo nove mesi dell'utilizzo dei cerotti non avevo miglioramenti nell'anca. Al 30 ottobre mi ritrovai invece in un ristorante messicano e stavo aspettando un amico che era bloccato nel traffico e ordinai delle patatine con la salsa piccante. Gli mangiai e mi dissi, vabbè, domani mi sveglierò con un sacco di acidità nello stomaco. Perché avevo reflusso gastroesofageo da più di 14 anni, da 2009, insomma. L'indomani mi svegliai e niente, non successe niente. Mi dissi, ah, mannaggia, ok, vabbè, sarà un caso. L'altra cosa che non riuscivo a consumare, oltre ai cibi speziati, era il caffè forte. Quindi provai un caffè forte e l'indomani niente. Niente, dissi, wow, fantastico, il mio reflusso gastroesofageo è sparito. Fantastico, questo è veramente un bel risultato. Quindi ho speranze rinnovate, insomma, che questi cerotti funzionino e aiutino il mio corpo a riprendersi. Quindi forse è per causa della mia età avanzata che prima i cerotti hanno deciso di agire sulla mia digestione. E adesso spero che si consentino sulla mia anca e i miei problemi di artrite.